bentornati signori a questo nuovo video allora cari signori è giunta l'ora di dedicare mamma mia sta maglia mi ha messo la maglia al volo oh va bene è giunta l'ora di dedicare un bel video like you while you die della axo questa l'abbiamo vista diverse volte nelle live quotidiane della settimana scorsa però vogliamo approfondirla un po meglio che sapete benissimo che nelle live non è che la approfondiamo più di tanto allora i revolver iv ma alla fine è pure semplice allora vediamo id informazione id informazione eccola qua informazione sul gioco 15.000 per al viso del penna simboli revolver d'argento e d'oro questo sparava i wild questo qua i moltiplicatori ma se la vediamo spinnare signore ancora meglio rfsfs lo scupper questi sono i vari moltiplicatori i best bonus e ci abbiamo tre tre round il migliore ci aggiudichiamo il migliore quello con la vincita più alta 94 e 15 del rettp ok ma abbiamo la vediamo alla spinniamola un po in dando qua paghiamo 5 per quindi cinque volte l'importo del del bet la puntata ma abbiamo dieci volte più probabilità il viso del pene facciamo così aspetta sì così è a pitch allora bet 4 partiamo vado signori lasciateci 30.000 like iscrivetevi al canale anche su questo canale ovviamente attivate la campanella delle notifiche selezionando tutte le notifiche così state sempre aggiornati ogni qual volta noi pubblichiamo un contenuto una live un video qualsiasi cosa cosa fondamentale seguiteci anche su instagram e su whatsapp che trovate il link in basso al video nella descrizione che appunto anche lì state aggiornati diciamo in tempo reale se dobbiamo farvi una comunicazione urgente vi mandiamo un messaggio su whatsapp e vi arriva la notifica anche lì così stare sempre aggiornati mannaggia sta cazzo da maglia me la faccio come la levo proprio ma è che sepia 10 volte di più mannaggia quell'asso l'asso prende tutto e altra cosa signori fate sapere cosa ne pensate dell'acso bella è l'ultima non la penultima perché nell'ultima live non mi ricordo se era martedì o mercoledì scorso scoprimmo quell'altra quella che seitan emidius la e che uscì proprio quel giorno la ma non mi ricordo c'è una settimana alla fine e quindi questa è la penultima comunque se volete sapere dove sto giocando ovviamente noi sconsigliamo di giocare sia chiaro però a titolo informativo se lo volete sapere e lo fate responsabilmente o sulla i in alto a destra o sempre in descrizione potete trovare tutti i siti legali per il nostro paese questi su cui giochiamo anche noi al momento questa qua e l'altra sono esclusive solo del primo della lista ok quindi se cliccate quel link il primo sito della comparazione che vi esce è questo qua ma ripeto signori lasciate aperti che è la miglior cosa uno è libero di fare ciò che vuole signore non siamo nessuno per dirvi non giocare però il consiglio nostro è questo ecco sta bene ok allora questo qua è quello balordo normale qua spara spara annaggia non ce l'ho qua il comando spara spara questo è spara e questo qua è wild eeeh ah no no che cazzo c'è no quello è l'altro gioco ma già imbriagate signori non c'entra un cazzo no questo è vado uno vado due vado tre ma è un bonus abbastanza balord signori però ok si resettano le tre cocce di emidius le cocce secche di emidius anche un bocco d'acqua fatta tu bele non è bele tanto amico tuo è finita qua con un 20 no 19 per non sono neanche visto si 19 per ma lo sappiamo signori il bonus all'axo possono pagare pure 0 4 ce n'ho buono la massagram signori l'abbiamo bello di nuovo 4 la massacriamo come un'altra volta in live vaffanculo e vabbè ci riproviamo però vedete 10 volte la possibilità 10 volte a spin ovviamente ogni spin abbiamo 10 volte la probabilità che ci esca un bonus pagando solo 3 per 5 per signori diciamo che è un affare ovviamente se va a 0 e non ci dà un bonus ce la piamo intercooler eh si oh 50 per ottimo 60 se noi prendiamo i revolver con 2 sono su 5 no 3 no 6 1 2 3 4 5 e 6 2 4 6 prendiamo tutti e quando ce lo dà signori eh questo qua per esempio è stato un po' più onesto ah diciamo prima 19 per un po' troppo balordo quando sono 100 no 356 ah no è 760 che cazzo sto a dire va bene andiamo avanti saliamo 7 e 40 di nu vado ehi e qua aspetta come funzionava ci vuole il best of più lo scat più i fs ma mi sembra solo 2 fs o il best of più 3 fs non mi ricordo come si attivava vabbè comunque dopo andiamo anche di acquistare eh niente questo io allora quando la schiattai schiattai beh no un bel bonus ci diede eh presi il terzo ultimo bonus quindi 4 fs 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 e c'aveva quello che sparava con i moltiplicatori vi ricordate ma non so chi è stato presente tutta stasettimana di live però e ora stai mangiando un po' eh se 10 probabilità andò stanno andò stanno una su 5 spin si deve pigliare mannaggia quello scalzo dove sta dove sta mannaggia la miseria sta cazzo è da maglia devo togliere la maglietta di sotto babbuna vaffanculo non si toglie signori devo fare ah così devo fare ecco magari questo costa la lira di dio sto bonus ma non ce lo metterà nemmeno nemmeno vaffanculo non ce l'abbiamo così non ce l'abbiamo questo costa o 400 o 200 per non mi ricordo come costa tanto almeno questo pezzotto dammelo dammene 4 bello oi dammene un altro eh mannaggia la miseria vabbè questo qua balordo si prende però non è detto che non possa pagare signori anzi può pagare come poi non so se questi qua seguano una logica ma non penso che spara dove vuole lei penso perché poi questi qua sono bianchi forse sono quelli più pezzotti no non lo so che differenza c'è signori ma 12 per vabbè ma può fare pure 12 per come no e l'ha fatto lo ha fatto quando sono imparando a terra bet 4 in effetti eh è già la miseria quello di prima ci voleva che poi non è detto che ci paga chissà quanto però avendo tre round quindi è come se avessimo tre bonus in uno in realtà perciò costa tanto e come l'ha oddio me l'avete scritto pure in live che già la provai anzi che la schiattai ci presi 30.000 euro mannaggia come si chiama quella non mi ricordo proprio è sempre axo bello così così funziona le 10 probabilità e non ce lo mette cazzo eh questo niente all'altro borsa lo deve fare signore la sgana il sum magari oi e ce ne sta per forza ci abbiamo tutto no l'ha ripetuti vabbè però resta quindi non è che spara una una volta può ripetere pure sullo stesso è finita qua allora spero di no ok spara qui spara non posso andare un po' più veloce ok eh ok bello e sparavi due volte su questo eh bello va bene che cazzo fa questo non capisco perché sono bianchi certi eh questo è un bel bonus signore ciente passa per via non ci schiettiamo continua fanculo bello cazzo questo 500 eh 484 ci manca pene torniamo a 1000 no 700 va bene va bene va bene va bene perfetto signore andiamo avanti con calma e vasilia l'elefante si ingroppò la gallina ah 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 e mo dammelo qua eh 10 possibilità in più va benissimo benissimo signori sei messo a bonus se hai messo a bonus ti paga una merda ma signori non è male sto bonus qua se non sbaglio non ci metto il pene sul fuoco signori ma dovrebbe costare 100 per dopo andiamo a vedere ma dovrebbe costare 100 per quindi immaginate quante 400 perché sto bet 4 quante 400 euro abbiamo risparmiato e mica poco ovviamente noi abbiamo 10 probabilità in più ma cioè si intende questo bonus qua non tutti i bonus ma qua devi sparare infatti si prende sempre questo qua e magari e mettono cazzo del revolver una trentina di per pure bu 2,16 per euro sta bene piano 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 8,92 se arriviamo a 1000 è rotta signori è rotta posseduta posseduta signori posseduta vogliamo fare una cosa io ora provo ad alzare il bet però magna troppo ok aspetta perché stanno questi che fanno non ho capito che fanno quelli dorati se fanno qualcosa di diverso ma non non me ne ho addonato ok 25 sta bene chissà jave stravessito da pistolero come fu ma vabbè non è male questo qua 2,36 consideriamo signori siamo a bet 4 allora facciamolo così io no fermo io io disattivo togli questo allora 10 volte in più facciamolo così quando è il max bet per l'amore del dino io mi faccio qualche a 20 ovviamente ovviamente signori non ci abbiamo più tutte quelle probabilità quindi il bonus ce ne possiamo scordare che ci esca così velocemente però vediamola anche senza 10 possibilità in più come se smuove signori vediamo appunto la differenza sappiamo che è così ovviamente se ci sta significa che sono realmente 10 volte le probabilità in più se no non fosse stata omologata dall'adm ma è normale mica scrivo una cosa a cazzo però vediamola anche senza se riusciamo a prendere un bonus magari aspettamolo signori come puntata 4 ma come 4 ma che sorrita vaffanculo la schiaffa a 30 vado a 30 mi è andato mi è imbriagato signori ma a finire che ci uscivo ci rimanevo pure male 30 magna però meglio giocare a bet più basso cioè sempre che noi so un 20-30 totale ma reale più basso appunto da sfruttare quelle possibilità in più ma bene pure così pure 3 vanno bene dammelo domani signori domani però visto che sono video informativi quindi informativi e didattici vediamo tutte le facce di sta slot cerchiamo di provare magari pur senza senza 10 volte la probabilità è buona dammelo aspettatevi aspettatevi dicevo la guardiamo in tutte le facce magari su questo costo all'interno ma no cazzo no questo era buono facevamo proprio un capolavoro o un lavoro capo come dice il basculat aspettate un secondo signore non facciamo questa strunza tanto l'abbiamo vista che il bonus non ce lo dà allora li faccio così però la metto a 40 ma oddio pure a 50 così oddio quant'è a bet 10 e infatti paghiamo 5 per facciamo così giochiamo alto ma anche il bet reale alto poi faccio 11 spin però in teoria 1 su 5 dovremmo prendere in teoria è la pratica che vi freg non c'è a zera non c'è a zera non c'è a zera fangolo sbagliato a mettere senza quella cosa comunque abbiamo fatto tanti spin ci deve stare per forza ci deve stare per forza no cazzo mo che c'ho dove la metto oh è mo sì andò stanno se 10 probabilità dove sono signori cazzo ci ha fregato ci ha fregato sì pull è troppo facciamo questo che ha 40 devo ricaricare 1000 jt mannaggia ho sbagliato un po' io però a tirarla 30 30 40 senza puntata senza i 10 per signori continuate a lasciare like mi raccomando ma raccomane signori mettiamola così che alla fine così siamo pure tranquilli bet 10 bet 10 potrebbe pure pagare buono bet 10 allora se ci dà il bonus quello balordo risparmiamo 1000 euro fatemi vedere non vorrei di nastro oh è buono questo no cazzo questo non fa da guai aspettate un secondo 1000 euro vedete no 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 questo prendiamo noi 1300 130 per risparmiati oddio non è in base se ci dovesse usci molto magari yeah ma troppe volte eccolo 1300 euro risparmiati ok 1000 perché 300 l'abbiamo spesa ok andiamo speriamo che ci paga che cazzo è il reload che cosa ricarica ah ah bello una sola volta ovviamente eh sì bello eh ma non ci abbiamo un cazzo sopra tutti i baloti spara 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 ah ma questo moltiplica mo ci ho fatto caso man questo è non è tre per ma è per due ah non ci avevo fatto caso signori 470 oddio se l'avessimo acquistata a 1300 sapete che a me era un poco poco eh però intanto ce l'ha dato spondare quindi va bene così signori andiamo avanti 4 ce ne vogliono a bet 10 la massacram signori la massacramo ah non buono macchinetta non buono non meglio non meglio macchinetta solo dalle 20 euro 100 150 soldo perché beh rucaprun caprundi caprundi di pistole io se lo scalzo signori non ci andava d'accordo col caprundi qua beh intanto dacci questo qua sicuro ma qui si è proprio a nuocchiogli signori oh ma ora sei imbestialita sei un poco imbestialita signori ovviamente il bet non c'entra nulla noi so anni che ve lo diciamo cioè non è che se alzo non paga più se abbasso non paga più perché il bet è indipendentemente cioè è una cosa separata dal motore di pagamento quindi se ogni spin genera un moltiplicatore o stiamo a 1 euro o a 2000 euro di bet non c'entra niente sempre che ne so genera 100 per ora eccolo 100 per ci dà poi il bet che siamo fortunati lo becchiamo a bet altro se no ci faccio i minguri signori allora questo qua è proprio sprecato qua perché a che serve è per 4 meno male 4 per 4 si dice ha sparato due volte sullo stesso quando ce l'abbiamo due 300 per allora ci deve uscire questo bene sparare un po' di più oh magari no non ci schietta ma è poco no vabbè 50 per siamo a bet 10 andiamo avanti torniamo a 900 signori eh piano piano si fece viti cuso quando magari signori prendiamo a bet 10 4 la scapucciam signori la scapuc pure questo ma non sono molto fiducioso anche se costa molto no macchinetta solo 20 euro mette qua lo voglio no va bene pure qua non li spregiamo questi e spara quelle 30 per che si maledetta 30 e per 2 possibilmente 31 per no signori 31 per 300 10 euro bello oh mattanaggia spara spara non spara 200 per signori no darci un revolver almeno perci crede uno ma vaffan 60 per pure questo ma una 200 per signori saremo a 1120 però su tanti bonus e cazzo uno buono ne deve arrivare uno che lo recuperiamo voi immaginate se io avessi acquistato tutti questi bonus stavamo sotto un treno signori 1300 euro a botta fatevi voi il contro quindi io preferisco 100.000 volte spin pago 5 per in più ma e cazzo 10 volte le probabilità che ci esce un bonus 10 volte a spin verità ce l'ha sono andate 1300 euro risparmiato no poco 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 eh moza imbestialita moza imbestialita signori gli acquisti ce andiamo ma solo 4 fa se perché è difficile prenderli però dicevo su tanti potrebbe pure uscire e daccelo ok altre 1300 risparmiate io non so solo sta sessione quanti bonus ci ha dato 3 4 beh balordo hai il 200 euro me l'hai fatto vedi e ce lo devi dare pure 30 per va bene non ce lo da pure 30 per va bene cazzo 25 no 250 euro no 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 15 per signori questo ha fatto un po' schifo con 5 spin chissà ce la facciamo a prendere un altro magari fai un capo lavoro e no ha fatto un lavoro capo eppure mo va bene apro daccelo qua no la donna ruffa no bu io vorrei a 1 a bet un po' più alto però alzando il bet si aumenta pure questo qua ovviamente come cazzo facciamo è troppo signore e ultimi due spin anzi uno e mezzo no un altro ci esce preciso chiude a zero proprio vaffanculo faceva un bel lavoro capo qua e niente ma che ci fa rivedere lo spin che già lo sembra viti chiocchile signore 2007 pull è troppo allora facciamo così io faccio una pazzia cioè alzo il bet reale di conseguenza si alza 15 volte si alza questo 15 volte allora la metto facciamo così bet 25 no no mettiamo a bet 20 bet 20 però facciamo 10 di la sessione bet 20 sono 2600 euro risparmiati se ci da il bonus cazzo però cazzo in 10 spin lo dovrebbe dare il bonus 10 spin è come se ne facessimo 100 di spin 10 volte per spin eh 3000 c'è te non so se è una buona cosa signore perché cioè il bonus lo potremmo pure prendere ma non lo paga proviamo bet 20 ma se ce lo dà con questa sessione l'abbiamo guadagnato è come se avessi acquistato un bonus da 2600 euro non è cambiato assolutamente niente ma ce lo deve dare con questa sessione 10 spin 10 prima 10 ora sono vinde 2600 euro risparmiati oh ok non è successo niente anzi ci ho messo 100 euro di più no di me di quando ci ho messo ci ho messo 1700 giusto non mi ricordo mi sa 1700 che ci ho messo a bet così 1000 prima e 700 muo vabbè ma che che cazzo ci dà Jay fa che cosa spara Jay 40 pere è buono a bet 20 sono 800 euro signori 40 Jay ma questo è proprio a chi oia quel pistolero no eh vabbè 7 e 20 signori vabbè andiamo avanti speriamo che ciò ridà secondo me non ha alcun senso giocare l'altra a meno che non ce le dà 4 la schiandam bello altri 2600 risparmiati vaffanculo ok sta a mettere in modo dacci un mandy e poi spara tanti per 3 non iniziare da qua niente raccomandi proprio le pecore al lupo pinneggio la miseriaccia oh il reloj ma chi è qua che mi dà fastidio io stengo a giugare la ciu la ciu santa pistola ecco ma togliete ma che me ne frega a me il disarremo eh vabbè questo è un bel colpo signori bello 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 so 2000 no ancora non già arriviamo mo si ma già non ci stanno moltiplicatori però che mo dove moltiplicava moltiplicava era buono tranne qua ok bello di nuovo bam 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 spar 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 bello benissimo tre vanno benissimo benissimo ah li fa tutti per l'amore di pistola signori questo questo vabbè recuperato certo vinto pure ma quel per due quel per due mettere un reload ragazzi per due dove cazzo lo metti meno no 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 ma cazzo 2000 3000 880 al viso del pene signori già qua quanto costava sto bonus 2006 3000 vabbè abbiamo vinto comunque vai vabbè pasca una troppa di botte anzi facciamo così la metto bet 25 bet 30 sto a bet 30 speriamo di prendere un ultimo bonus signori e passo agli acquisti ultimo bonus e la chiudo no la chiudo passiamo agli altri acquisti e mo io non so quanto ho messo in gioco ma dovremmo sare soldi nostri penso eh mi sa di sì ah è sbagliato scusate fessè fessè subito ma vi mangiate a bet 30 signori ci da 4 fessè fessè la scapucciam signori lasciateci like mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciateci anche un commento cosa ne pensate della QI di QDay dell'Axo l'ultima sfornata e niente questa qua ripeto è un'esclusiva se volete sapere dove sto giocando link in alto sulla I a destra quella in all'angolino o link in descrizione potete trovare tutti i siti legali appunto che ne dispongono al momento però è solo sul primo della lista quindi quando cliccate il link il primo che vi esce pistole recuperiamo lo spin va bene ma sta bene ma sta a mangiare signore signore sta a mangiare così il per 5 come avvolgiamo 150 euro sta a bello 216 mannaggia un bel bonus a bet 30 giocatamente a 2000 euro signori porca puttana a breve in teoria dovrebbe arrivare in teoria signori ma già troppi spin fatti oh abbiamo fatto quasi 20 spin 20 spin precisi porco giuda sono troppi signori sono troppi se ne va a zero se ne va a zero questa è una strunzata cioè non è possibile si è scangellata si sono scangellati i fessi fessi signori cazzo 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 questo ci ha fatto male perché mo ci dai il bonus non ce lo paga bene sicuramente si è scangellata si sono un po' mamma mia proprio sprogrammati si è rimessa in moto oh ce le è pigliata ce le è proprio intercooler proviamo così mannaggia quello scalzo mannaggia e signori dobbiamo provare a prendere un altro così sperando che ci dà ne so un cento per e lo recuperiamo mannaggia che strunzato cioè che strunzato se ce lo dava poi bravo bravo vabbè signori che dobbiamo fare e la proviamo così a bet 30 di nuovo ci sono proprio sprogrammati avete visto qua veramente ci vuole un miracolo per recuperare cioè un miracolo no bastasse un bonus normale e lo recuperiamo mannaggia quel disgraziato scalzo mannaggia io non so quando ci ho messo fatemi fare un controllo 5000 può essere pensavo chissà quando ci avevo messo vabbè se è così non fa niente 5000 è possibile pensavo molto più vabbè quindi andiamo a 6 con questa ma dove cazzo stanno queste fessere dove sono magari signori bet 25 bello bello signori bet 20 bet 20 signori attenzione sto bonus questo è uno è il penultimo massimo sono massimo dimmi qua dobbiamo fare 3 round 1 2 3 il migliore ci aggiudichiamo cioè è come se fossero 3 bonus prima che abbiamo preso finora ma tutte 3 in 1 questo sta o 200 o 400 per signori sto bonus bet 20 per l'amore di dio signori qua possiamo svolta tutta la la giornata all'ora mi fanno spindare oggi al viso del pene signori allora il primo è 83 per direi che fa quasi schifo ma quasi schifo però sono 1600 euro già ce l'abbiamo assicurata possiamo solo migliorare quasi bene benissimo 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 spara spara qua bello no qua doveva sparare ok 75 per questo è ancora meglio perché me lo superiamo ovviamente benissimo spara per 2 per 2 per 2 per 2 bello spara lo per 2 mannaggia ma sto chiodiere signori questo è ottimo è ottimo abbiamo recuperato tutto benissimo eh non benissimo un bel reloj ricarica no l'ultimo spin no no oh bello si arricaricano la coccia dei midius ma questa è una barca solo 2000 euro solo questa signori è una barca di soldi credo sia il migliore credo che questo qua ci darà almeno che non miglioriamo col terzo ma non penso però ma guarda se moltiplica quello scalzo 2 212 per 212 per 4 mila euro signori 4 4 220 per l'amore per l'amore di dio oddio siamo aperti ovviamente però cazzo una bella botta siamo tornati come prima non è successo niente ok oh qua abbiamo un per 4 che si è tolto solo un per 2 ci è rimasto ci deve uscire questo qua oh per 10 bello 120 ma non arriviamo a questo monoperdu qua ci vorrebbe signori spara spara non ha sparato c'era un 64 vabbè non l'avevo detto era difficilissimo ma non so 2000 no 4000 4000 220 vaffanculo basta basta facci tronzate mi faccio giusto se due tiri per apparare là uno oh ci entra va due tiri uno e due vaffanculo perfetto signori basta ok allora andiamo di questo qua ma ce lo facciamo proprio pazzo vaffanculo vado 4 fsfsfs uuuuuh bella cazzo signori bella veramente famigli sapere nei commenti cosa ne pensate della 2 island 3ите della axel bella vera pericolosa ma bella con molto potenziale 15.000 perde vincita massima sapete com'è Allora Bello Iniziamo con 200 euro Va più che bene Però ci vogliono I revolver Quelli rossi Che sparano questi Poco poco Qua nell'ultima Eh nell'ultima live Nelle live che feci La settimana scorsa Guardate pomeridiane 7.800 euro Sparati signori Feci brutto Mi sa bet Mi sa cos'è Bet 4 Una merda questa Anzi l'ha pagato Fin troppo bene Perché l'abbiamo vista Quella che può fare L'abbiamo visto benissimo Questi qua Ovviamente stanno spendi Perché non ho capito Su sto sito Il max bet è quello Però vabbè Allora Andiamo avanti Vedremo cosa succede Ci vogliono più revolver Signori Più di più Di più Poco Siamo spacciati Per 10 è buono Ma come cazzo Lo coinvolgiamo Sto per 10 Ci vuole veramente Un miracolo Qua Io l'altra volta Quando l'ho preso Ce l'avevo qua Qua Cioè era pieno Maffanculo E questo non è niente Può pure pagare 0 Signori Vabbè ma 800 È proprio da assassino Giocarla Lo so Sono consapevole Signori Però per fare qualche pazzia Tutti là ci proviamo Ok bene Partiamo bene Potrebbe essere un bel bonus I primi 3 sping Dobbiamo vedere Benissimo 1 2 Se il prossimo lo dà Potrebbe essere Un buon bonus Stanno gli schemi Filsi questi So Potrebbe come non potrebbe Ma servono altri Di questi Che facciamo Se no 1 Guarda quel per 10 Nell'angolo Più remoto Del mondo Usiamo per 1 Alla volta Cazzo Ok 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 Bello 800 Bello Ve l'avevo detto Vedete Sono proprio 1100 Proprio schemi fissi No Spara Mette 3-4 insieme 3-4 insieme No Stai 2 tiri 2 tiri Ok 2 spin Bello Andiamo avanti Anche se ci ostacolano Però 2 spin ci fanno Molto comodo E non spara Aspetta Aspetta la femmina E' poco Ultimo spin Vaffanculo Io non conosco Nemmeno le linee C'ha linee strane Vabbè 1500 1600 euro Preciso 2 acquisti recuperati Bazzichiamo Sui 3 sesimi Stiamo là Va bene Va bene Tanto Super bonus L'abbiamo visto L'abbiamo visto tutto Secondo me Ci possiamo pure Fermare Sembra uno Però Almeno all'inizio Vabbè 4 wild Mamma mia Sta femmina Qua Non mi piace proprio Come è partito A meno che non si rimetta In moto Ora Subito Aspettate Questo 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 Non c'è Quella linea Sono pure Abbastanza vicini Ma 2 spin Mancano 2 Facciamo recuperarmi No Ok 2 spin Più wild Va bene Moltiplicatore A campo Assolutamente Ci sono Ghiogliere Va bene Comunque è bella Signore Bella Bella Ovviamente La slot È a gusto Personale Non può piacere A tutti È ovvio Però Come meccanica È bella Oh Oh No Sì Sì È una 104 Sulle Poco Vabbè 765 L'abbiamo Diciamo Quasi Recuperato E dicevo È una Bella Come meccanica Cioè Sta fatta Veramente Veramente Bella Poi Ovviamente Essendo una Slot Brutale È normale Che non Può Paga Sempre Se no Non pagherebbe 15.000 Per Se fosse stata Più bassa Volatilità E avrebbe avuto Una media Di bonus Un po' più alta Ma quella È normale Cioè Chi gioca Deve sapere Queste cose Ovviamente Su bonus Fa poco schifo Signore Eh Oddio Oddio Falare The Wild Mannaggia La miseria Non ci sta Lei mi aspettavo Molto Molto Meno Sinceramente Anche se Vabbè Ce l'abbiamo Vicino Wild Bello Questo dovrebbe Questo è buono Bello 480 Doppio Quattristo Di femmine Cazzo Non me lo sarei mai Aspettato Una cosa del genere No È Luca Pronta A sparare qua Questa C'è C'è Lina Qua Bello Non l'avevo Visto Non l'abbiamo Vinto È uno Dei migliori Quattro Signori Io faccio Quest'ultimo Così Da mille E la chiudo Basta C'è andata Fin troppo bene Abbiamo Sì Abbiamo perso Ovviamente Che mi ha fatto C'è andata male Però Sto super contento Comunque Perché potevamo Perdere molto Di più Qua Il peggio Non lo fa A bette cingano Mi sa proprio Di sì Signore Non spara È uno solo Là Che schifo E uno Sembuna Una volta Sta Oh Il collo Il collo Il collo Cazzo Si chiama Qua Santa pistola Della scienza Luca Pro 555 Sta bene Oh Questo è bello carico E mannaggia Ma non li mette In pilati Cazzo Va bene Va bene Questo l'abbiamo Recuperato Vaffanculo No Campo basso No Campo basso No Quattro Non sapevo Sta linea Ok Questo pure Andato bene Meno male E spara Questo le femmine Che cazzo No Non c'è una linea Non c'è quella linea Santa pistola Signori Ma guarda Secondo me La possiamo finire qua Fammi vedere come stiamo Perdo mille euro Nemmeno Circa Allora facciamo così Guarda qua Mi faccio Mi faccio Se giocate pazze Mi faccio Quattro tiri Così O ci da lo scatter O basta O la chiudo a 4.000 Abbiamo perso Una miglia rata Circa Ultimo spin Marona Immaginate 90 Vabbè Accendo Me lo posso fare Basta Recuperato 4.000 Signori Va benissimo Perdo una miglia rata Però abbiamo fatto Cazzate oggi Signori Quindi Diamori sempre Un limite Di tempo E di soldi Soprattutto Capiamo Sempre quando Fermarci Che solo così Può essere un divertimento Detto questo Io vi ricordo Di lasciare like Iscrivetevi al canale E attivate la campionata Le notizie Lasciateci un commento Sulla cosa ne pensate Sulla 2 wild 2 die Della XO Vi ricordo Che il gioco Che vedate Mi non è la 18 Poca ossia Dipendenza patologica Giocate responsabile Il consiglio nostro È quello di Non giocare proprio Se potete sapere Dove ho giocato Su siti legali Come trovarli In alto Sulla i a destra Nell'angolino O link in basso Nella descrizione Ho giocato Sul primo Della lista Signori Detto questo Vi auguro Una buona giornata Serata Quello che si E ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao Ciao